Salve amici del Centrometro Italiano, ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano un avvio della prossima settimana ancora con tempo molto stabile e clima più estivo che autunnale. Ecco infatti l'anticiclone nella giornata di lunedì 16, esteso tra Mediterraneo Centrale e Balcani, con tempo dunque stabile e soleggiato su tutta l'Italia. Come possiamo vedere anche dagli spaghi avremo una quasi totale assenza di precipitazioni almeno fino al 17 settembre. A seguire il modello GF Estre mostra l'elevazione dell'anticiclone sull'Atlantico con il transito di una piccola perturbazione sull'Italia. Ancora comunque molto lontani le grandi piogge autunnali a causa del troppo robusto e invadente anticiclone delle Azzorre. Trattandosi di una tendenza seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sul nostro sito o sul nostro canale YouTube. Un saluto da da parte del Centrometro Italiano.